Dal crocefisso che tornerà in aula, passando per il pranzo dell'anniversario diventato della discordia, nel mezzo l'approvazione di importanti variazioni al piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Arezzo. Questi gli argomenti di interrogazione e emozioni di un consiglio comunale, quello arettino, piuttosto insolito. Partiamo appunto da Marco Casucci e Tiziana Casi, Lega Nord, che hanno chiesto con una mozione che nell'aula tornasse il crocefisso, identificato come simbolo universale dei valori di libertà, uguaglianza e tolleranza. Dopo un acceso dibattito, dove si è distinto anche il no di Angelo Rossi o Raghinelli, difensore della laicità dello Stato, la mozione è stata approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti e 2 non votanti. Sarebbe interessante, permettetecelo, che una volta tanto nei comunicati stampa dell'ente ci fossero anche i nomi dietro a questi numeri. Il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini ha invece illustrato la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018. Rispunta, come le margherite, la realizzazione del polo digitale e la rotatoria di via Fiorentina, mentre slittano al 2017 gli interventi nelle scuole Pescaiola e Fonterosa. Depennati il nuovo archivio storico e la cassa di espansione sul bicchieraia di cui si farà carico la regione. Più risorse, infine, per gli scavi archeologici in fortezza e per l'implementazione degli impianti di videosorveglianza. Nota di colore, perché di più davvero non ci pare che sia, la polemica sul pranzo della maggioranza che avrebbe interrotto ingiustamente, a detta della minoranza, i lavori dell'Aula. È proprio il caso di dire, tanto per buttarla in una battuta, che in politica finisce sempre tutto a tarallucci e vino. Grazie a tutti. Grazie.